Il numero 23, Alessio! Ha stupito tutti con la sua forza fisica, la sua dinamicità, la sua intensità, il suo impatto in ogni gara. Con il numero 18, Giovanni! Sì! Sì! Il suo gol alla Juventus sul Kong lo rivedremo probabilmente per tutta la vita! Con il numero 81, Jack! Sì! 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 Lo scudetto passa anche per le sue corse, gli scatti, i dribbling, i gol con il numero 21, Matteo! Sì! 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 Centineia di chilometri sulla fascia messi a disposizione della squadra con il numero 11, Irvinger! Anche in Georgia è festa! Nella bandiera bianca e rossa aggiungeranno sicuramente un po' di azzurro con il numero 77, Quigia! La sua superiorità è diventata evidente nel corso della stagione. Una superiorità fisica e mentale, la fame di vittorie lo ha reso inarrestabile con il numero 9, Vittorio! 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 Vittorio!